Siamo in diretta sulla pagina Facebook, la tematica è il referendum, ci sarebbero molte altre cose da parlare perché durante la pubblicità ne vengono fuori, ovviamente in primis anche la guerra in Ucraina, quindi anche quella è una tematica che la stiamo trattando con i nostri servizi e i nostri telegiornali. La domanda è, lo sappiamo tutti, poi fanno il processo, eravamo rimasti qui prima nella pubblicità, Paolo Giaretta, poi non viene incriminato chi dovrebbe essere come legge prevede incriminato, allora vi domando se il giudice stesso capisce che queste persone bisogna fare una scelta, ma è possibile che la politica in Italia non capisca oppure ha ragione Tomenetti quando dice, qui abbiamo il Vaticano, delle volte mi chiedo se sarebbe dei anni da uno stato all'altro, magari non si può sempre accusare il Vaticano in modo superficiale, perché chi legge e segue, ad esempio il giornale che esprime l'opinione della conferenza episcopale italiana, l'avvenire, vede che su questo tema ci sono posizioni molto, come dire, moderate, intelligenti, che poi in una parte nel mondo cattolico… Però nessuno ha consente Paolo Giaretta. Perché sono più realisti del re? Ma scusate, io ho fatto il Parlamento a lungo, parlamentare a lungo sono stato parlamentare, no? E quando sono stato parlamentare è capitato il caso Inglaro, ve lo ricordate, no? Ecco, di questa ragazza. E io ho sostenuto, sono un cattolico, ma ho sostenuto assolutamente la posizione della famiglia e del padre che ha consentito un accompagnamento alla morte, diciamo, di questa persona impedita, eccetera. tant'è che il mio intervento è stato citato anche nel film che è stato fatto proprio sulla vicenda Inglaro. Quindi non è questione della Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica può avere delle posizioni, vi assicuro, che su questi temi sono posizioni molto sagge che invitano tutti a riflettere. Dopodiché il parlamentare deve decidere. È chiaro che c'è bisogno di una legge. E quindi decidano. Perché lei ha preso un tema, io ho letto degli articoli sulla venire, è molto, come ha detto lei, come si può definire, democratica, chiamiamolo così, nel ragionamento dell'eutanasia la Chiesa. Però fa una scelta precisa e dice no. Dice no, in qualsiasi caso dice no. Perché reputa la vita più sacra della morte, ovviamente giustamente come questo ragionamento però dice no alla fine del gioco. C'è tutto il tema delle cure palliative quando sono possibili. Ma il Parlamento può decidere liberamente. C'è la saggezza del parlamentare, naturalmente, è di trovare, non la guerra appunto di religione, ma trovare quel comune sentire che in questo caso è evidente qual è il comune sentire, no? È evitare queste sofferenze di persone che non hanno alcuna speranza di vita migliore. Poi c'è il tema più generale invece dell'eutanasia, cioè la possibilità in ogni caso di limitare la vita in cui la Chiesa invita a essere prudenti. Perché chi conosce la situazione nei paesi dove l'eutanasia è permessa, ci sono tanti problemi, tanti problemi, perché un anziano che si sente di peso alla propria famiglia in quei paesi, pur con tutta l'assistenza psicologica, ci sono dei casi delicati. Sì, ma ha ragionato bene, si muta giù dal quinto piano, esageratamente faccio ragionamento se è autonomo, può farlo da solo. Sì, certo. Che non è bello, però può farlo da solo. Bene, ma noi, quello a cui richiama la Chiesa è dire il valore, la vita è un valore e noi dobbiamo sostenere la vita, non pensare di risolvere i problemi degli anziani non autosufficienti dicendo che a un certo punto costano tanto. La Chiesa non si pone un'altra domanda, Paolo Gialetta, se quella è vita. Ma stiamo distinguendo i due casi, i casi in cui, ripeto, c'è una malattia irreversibile, dolorosissima, che toglie autonomia, è un conto. Un altro conto è l'impedimento della vecchiaia. A un certo punto non sei più autosufficiente. Il DJ Fabro, se facciamo l'esempio, era uno che di testa c'era, capiva e recepiva. In ogni caso, ognuno faccia il suo. Se uno, diciamo, ha la fede, ha una certa idea della vita, io, non so, faccio l'esempio della famiglia di Beniamino Andreatta. Beniamino Andreatta, ricordate, ha avuto un malore proprio in Parlamento e non ha più recuperato. È rimasto per otto anni e la famiglia lo ha accudito. Ma è una scelta, naturalmente. Chi avrebbe avuto la forza? Chi avrebbe avuto la forza? Io non lo so. Però il Parlamento decida nella propria autonomia. nessuno, cioè non c'è più la Chiesa che scomunica, eccetera, la Chiesa propone un sistema di interpretazione della vita. Il Parlamento decida, e è vero che se ci fosse stato, diciamo, il pronunciamento del referendum, poi si sarebbe potuto intervenire con la legge e si sarebbe dovuto intervenire con la legge, però proprio la Corte Costituzionale, nel prendere in esame la soluzione di Cappato in quel caso, ha indicato al Parlamento gli elementi, diciamo, di rispetto costituzionale. Quindi è un problema abbastanza semplice adesso. Robato Mercato, dopo questo referendum, perché abbiamo anche a parlare degli altri referenti, dopo questo referendum, secondo lei, visto che la Corte Costituzionale ha detto rivedetelo, in parole povere, ha trovato una scappatoria e ha detto rivedetelo, ma io non so come si potrà rivedere questo tipo di ragionamento, però non è compito mio. La domanda mia, il Parlamento prenderà in considerazione questo Parlamento? Questo Parlamento? Ebbè, quello che c'è, insomma, attualmente. Ma figuriamoci. Quindi passeranno ancora anni. Ma figuriamoci, questo è un Parlamento che ha una scadenza di vita di qualche mese, di fatto, perché poi… Qua sarebbe meglio l'eutanasia. Sì, esatto, accompagnarlo, cioè ha una scadenza brevissima. In questa scadenza deve affrontare la crisi internazionale ucraina, il rincaro delle bollette energetiche, il tema del PNRR e rinforzare la ripresa… Mi chiedo se riuscissi a fare anche una di queste cose che ho appena neanche fatto farebbe già qualcosa di stratosferico. Ma figuriamoci. Ma non l'hanno fatto, vediamo i 50 anni. D'accordo Maurizio Conte, quindi staremo qui a discutere, staremo e vedremo ovviamente delle situazioni di persone che sono… Il Parlamento sarà uguale, cioè se non cambiano le regole e il gioco, non è che… No, no, sempre quello è. Se la domanda, Maurizio Conte, che le faccio è, se la problematica è una problematica di cui il 70% degli italiani è d'accordo che questa legge dovrebbe passare, e siamo tutti d'accordo, e in Italia il Parlamento non lo prende in considerazione da farlo diventare legge, la domanda mi viene, Paolo Gialetta, spontanea, mi scusi, io sono anche un cristiano, però mi sembra che… Non c'è più la scomunica della Chiesa, c'è solo l'espulsione a parte dei partiti, c'è un altro discorso. Ha ragione, ha ragione, ha ragione, credo che la Chiesa su questa tematica abbia un'influenza non leggera ma molto importante. Però se ci fosse comunque la volontà del Parlamento, al di là appunto della Chiesa, e che ci sia una forte rappresentanza di cattolici all'interno del Parlamento, la scelta… Vedi che parola vuole intervenire, Gialetta, ha ragione Roberto, diciamo al dire ci sono tante scadenze, ma ci sono diversi disegni di legge, la commissione competente ha iniziato l'esame, quindi se si vuole, se si vuole, rapidamente può essere affrontato questo problema intanto per risolvere questi casi più drammatici. Però capisco, se si vuole, se si capisce che c'è della gente che sta soffrendo e che è possibile con una norma giusta venire incontro a queste situazioni, io penso, il Parlamento ci sono stato, penso che in questi casi c'è anche la cosiddetta sede legislativa della commissione che puoi dire approvo il testo di legge in commissione e poi lo mando in aula senza modifiche. Però non lo fanno, poi ce l'ha detto… Fino adesso non lo fanno. A me mi ricorda tanto quelle giornate quando facevo il liceo dove passavo il pomeriggio a giocare a Bayon, andare in giro in bicicletta, no? E dopo mi svegliavo un mes'ora prima, la mattina, prima della scuola per recuperare i tre giorni che non volevo studiare. Cosa ho avuto? Andavo in te la vacanza e poi avevo quattro. Punto. È la stessa cosa, cioè non hai fatto i compiti per casa per cinque anni e li facciamo in due mesi. Ma infatti non sarà così. Ma magari non lo farà nemmeno, non lo farà se nemmeno prossimo per la Roma. Non sarà così e appunto credo che non… Allora qui non è che non esistano i cattolici progressisti e intelligenti come già retta, ci sono, ma sono una minoranza spesso all'interno di istituzioni come quella parlamentare. Poi come diceva Marcato ci sono quelli più realisti del re, no? Ci sono quelli che vanno a fare la manifestazione per la famiglia tradizionale e poi vanno a Baldrach una sera sì e l'altra anche e avanti così. Per cui ci sono tutta una serie di incoerenze importanti. Però è innegabile che la maggior parte dell'espressione, come dire, organizzativa della Chiesa è contraria a concedere all'essere umano il diritto di… Poi ci sono le fra… ma la Chiesa ha sempre fatto così, ha sempre avuto il corpus che era bello, conservatore, attaccato alle tradizioni e poi c'erano quelli che facevano le fughe in avanti, che poi magari dopo cent'anni venivano recuperati dicendo, ah guarda che c'era anche il nostro, lo avevamo detto anche noi, sì cocappio, ma era il 10%, insomma non erano il 90%. Io credo, ma nel frattempo è stato bruciato. Esatto, se non venivano bruciati. Ma al di là di questo, quindi in questo momento qui non è che mia mente interessa pigliarmela con la Chiesa, la Chiesa fa il suo mestiere e dice quello che pensa. Qui c'è un Parlamento bacchettone su queste cose e anche ferocemente insensibile, perché stiamo parlando della sofferenza delle persone, è indegno che non ci sia una legge in questo Paese, poi i ricchi per esempio vanno a crepare all'estero, ma sarà mai possibile che un poro canne deve soffrire come una bestia fino all'ultimo… Io credo che l'unica soluzione sia proprio il biosdore, cioè i giornalisti con inchieste e tant'altro che diano un po' di peppe proprio alla politica in modo tale che questa legge venga approvata. Mi dà questa sensazione, perché ormai è un dibattito che tutti ne parlano, tutti siamo d'accordo che bisognerà e bisognerebbe farlo, però il Parlamento come avete ben detto voi, insomma fa occhio da mercante. Posso proprio una pillolina? È che per esempio anche con questa occasione, con questo referendum si è perso un'occasione straordinaria di riavvicinamento del popolo ai propri rappresentanti, perché l'impressione che si ha sempre di più è che questa classe dirigente, questa classe politica, mi metto in mezzo anch'io, non lo scudo nessuno, in realtà non parli di me, non parli di me che soffro, non parli del mio parente che è moribondo in un letto, non parli dell'anziano che non arriva fino a me, non parli più di me, e questo è il tema, questo era un tema sensibilissimo, perché è vero quello che diceva prima Roberto, se noi andiamo a fare tanto gli ho visti in sondaggi anche, cioè oltre il 70% degli italiani era d'accordissimo, quindi non è che, questa non è neanche una scelta elettorale, uno dice, siccome che so che il 70% degli italiani è contrario, io lotto perché non passi sto referendo. Era d'accordo, erano d'accordo. Ma scusa Roberto, anche il fatto che si erano d'accordo e tu non fai la legge? La consulta è che ha deciso, mi scusi un'informazione da ignorante, in quante persone erano? Beh, la consulta diceva che siano 12, 15. E queste 12 persone nessuno... Scusi, possiamo dire anche la composizione? Cinque di nomina parlamentare, a proposito che politica e magistratura vanno divise, cinque di nomina del Presidente della Repubblica e cinque di nomina della magistratura, quindi è una consulta, quella costituzionale, che ha anche una profonda radice politica, quindi è chiaro che poi su alcuni temi è fortemente influenzata dagli orientamenti culturali e politici. Però a prescindere da questo, io non metto in discussione che tecnicamente la scelta sia valida, mi fido, sono tutte persone che hanno studiato diritto costituzionale, un miliardo di volte quello che l'ho studiato io, quindi non mi esprimo, però bisogna trovare una soluzione al problema. Allora, sono tutti di qualità, come mi fa capire, giustamente come ha detto lei, e non ho dubbi su questo, però mi viene un dubbio che il 70% del popolo italiano viene trattato come ignorante, viene trattato male. No, ma scusa, il tema non è che ci sia... Perché se il 70% del popolo italiano dicesse che l'articolo 3 della Costituzione fa ridire e va abolito, non lo puoi fare con un referendum e la Corte Costituzionale non potrebbe approvare. Non possiamo scaricare sulla Corte che ha altri tempi l'incapacità della politica. Adesso la politica, pur nelle ristrettezze del tempo, se vuole, ripeto, si può fare... Basta mettere la fiducia, direttore. Il tema è, lo dico qui perché c'è un rappresentante della Lega come Roberto Marcato, a me fa piacere sentire che un rappresentante della Lega dica ma questi sono temi da affrontare, da risolvere, perché poi dopo in Parlamento ci sono stati atteggiamenti anche diversi della Lega su questi temi. Ecco, non è che sia, come posso dire, come ti rivolgi principalmente a me, io non sono in Parlamento. Il mio partito, diciamo, a cui ancora aderisco, che è il Partito Democratico. Però è l'unico che ha un'esperienza, Polo Cianetta, dai. Ma questi qua ne hanno altrettanto. A livello di Parlamento... A parte me ne hanno altrettanto tutti, però bisogna dire che ci sono anche i leghisti intelligenti, nel senso che non ci sono solo i cattolici intelligenti e sensibili, ci sono anche i leghisti intelligenti e sensibili, però anche secondo me li sono in minoranza. Adesso lo so se è Marcato ultimamente, se dobbiamo parlare poi in termini sul fatto di Padova, che è leghisti di Marcato. Io Marcato lo sento parlare delle volte, sono imbarazzato e sono d'accordo con lui. Perché durante la pubblicità è un po' trinaricciuto anche lui. Roberto Marcato mi ha fatto ricordare qualcosa, quindi bisogna vedere Roberto Marcato all'interno della Lega che è un po' in questo periodo, diciamo che non è che si amino ad oltranza, c'è qualche problema. È un'effervescenza positiva. È un'effervescenza positiva di cui Roberto Marcato è stato molte volte preso in causa, perché il vero soggetto di cui si è aperta una discussione profonda nel Padovano con i sindaci del Padovano e dell'Inter della Padovana è proprio Roberto Marcato. Dunque il responsabile è lui, ma questa è un'altra tematica, poi vedremo se abbiamo il tempo di parlarne. Vi faccio vedere invece, perché altrimenti davvero non riesco a... Sì, se no parliamo solo del referendum che non c'è. Ci sono quelli che ci sono. No, no, aspetta, ne abbiamo tre, solo tre referendum, quindi ne abbiamo tre. Vediamo il secondo, il terzo aspettavamo di aver collegato Stellari. Allora il secondo è il cannabis. Se noi andiamo a vedere la spiegazione di questa tematica, nel quesito del referendum che cosa cambia se vincisi. Se vincisi, ovviamente. Sono state raccolte anche qui 500 mila firme per proporre il referendum abrogativo sulla cannabis legale. Il quesito prevede il cambiamento delle norme vigenti sulle droghe leggere con ripercussioni su rilevanza penale e sanzioni amministrative in materia. Si riferisce al testo unico sulle stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, che prevede la depenalizzazione per la coltivazione di qualsiasi sostanza. Arriva perché abbiamo preparato lento l'eliminazione della pene detentive per i condotti illeciti relativi alla cannabis, in eccezione ovviamente del traffico, ad eccezione del traffico illecito. Leggo male perché ho il monitor distante, quindi scusatemi se non riesco a darvi l'aspirazione rapida. Se vincisi, niente sospensione della patente e del certificato di idoneità alla guida dei ciclomatori per l'uso personale. Rimarebbe comunque una multa da 1.500-6.000 euro per chi è sorpreso a guidare sotto l'effetto di droghe. Ah, ecco. Che mancheria. In questo caso è previsto anche l'arresto da sei mesi ad un anno e la sospensione della patente. C'era la musichetta, l'abbiamo tolta per essere ancora più cari. Verrebbe depenalizzata solo la coltivazione di tutti gli stupefacenti, tuttavia non verrebbero resi legali tutte le droghe. Continuerebbe a rimanere punibile la produzione e la fabbricazione e la detenzione illecita e dunque l'acquisto attraverso lo spaccio. Questo rimarrebbe illegale. In sostanza verrebbe legalizzata solo la coltivazione a uso personale della cannabis. Allora i promotori sottolineano che ha il referendum potrebbero mettere in serie difficoltà le mafie e togliere loro il racket delle droghe leggere. Questo ovviamente è quanto dice chi ha promosso questo referendum. Adesso andiamo a vedere in entrambi i casi perché sono stati bocciati questi due referendum. Allora vediamo qui la grafica così vi saremo utili anche per questo referendum. Il referendum su etanasia e cannibale perché sono stati bocciati. È stata una settimana impeditiva per la Corte Costituzionale che è stata chiamata a decidere su cinque quesiti referendari. A scatenare la bufera mediatica a quelli dell'eutanasia e sulla cannabis, respinti dalla consulta. In primavera probabilmente gli italiani dovranno votare per i cinque quesiti approvati legati alla ritorna invece per quanto riguarda la giustizia che ne parleremo dopo. Incandidabilità, custodia cautelare, separazione delle carriere di PM, giudici, elevazione del CCSM e consigli giudiziari. Secondo la consulta i motivi della bocciatura dei quesiti cannabis legale sono da attribuire a un vizio di forma che avrebbe potuto aprire la strada ad una tipologia di traffici di stupefacenti. Il quesito infatti prevedeva la depenalizzazione sulla coltivazione delle droghe, come abbiamo detto prima. La consulta inoltre ha dichiarato inammissibile il quesito sull'eutanasia, come abbiamo già ampiamente parlato nella prima parte. Secondo quanto detto da Giuliano Amato, non sarebbe stata preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana. Questa è la motivazione. Anche qui la forma del quesito avrebbe aperto le porte alla depenalizzazione dell'omicidio legale, che sarebbe stato lecito in casi ben più numerosi e diversi da quelli dell'eutanasia, come ha detto Paolo Giaretta. Sono stati tanti messaggi di malcontento da parte dei comitati promotori. Giuliano Amato ha parlato di questi malformulati come causa principale dell'inammissabilità del referendum. Quindi ha detto che l'avete proposto male. Possiamo pure rientrare a grandi linee. Abbiamo ricepito, insomma, tutto è perduto. Vedete, il Parlamento potrebbe affrontare i temi in aula. È spinto da clamore mediatico, come dicevo prima, dalla stampa e da tant'altro. Potrebbe rivedere la cosa e fare una legge che chiarisca sia il fatto dell'eutanasia, sia il fatto anche sulla cannabis, sia anche ovviamente per quanto riguarda la giustizia. Sulle droghe come le ha pensate? Inizio da Roberto Marcato. Allora, io ho un'idea molto chiara e netta. Lo Stato può essere inflessibile se lui per primo è inflessibile con se stesso. Allora, posto che dopo il tema, se è giusto che uno sia in carcere perché coltiva due piantine marihuana, dopo lo vediamo. Però immaginare di mettere in carcere un ragazzo di vent'anni perché ha coltivato qualche piantina in carceri, onti, spussoenti, coi sorsi, sovraffollati, indecenti, non igienici, mal gestiti. Tu prima fai i compiti per casa, fai un sistema carcerario che sia innanzitutto umano, fai un sistema carcerario che serva sì alla riabilitazione del condannato, e allora dopo tu puoi essere inflessibile perché se non sei inflessibile con te stesso pretendere che il cittadino lo sia altrettanto la trovi una forzatura ideologica. Dopodiché immaginare che uno debba finire in carcere in un paese dove se tu rubi 40 miliardi d'euro e vai alle Maldive a prendere il sole e boccia da stare in carcere, pacuato, piantina e marihuana, anche questa la trovo un po' suggestiva. Cioè uno Stato per funzionare deve essere equo e lo è solo se c'è un rapporto giusto fra reato commesso e pena prevista. Altrimenti la si vive come un'ingiustizia, quindi io adesso non so se sia stato formulato male o bene, qualche dubbio ce l'ho su questa sentenza della Corte, perché vutto che questi qua, dopo cento anni io avanti lo sto riferendo proprio, mi sembra di informare prima se giuridicamente stava in piedi, mi pare un po' strano, però vabbè insomma, come dicono anche i miei colleghi, questi sono molto bravi noi, quindi ci atteniamo a questo. Però insomma lo trovo un po' boh, anche questo da discutere molto. Andiamo in pubblicità perché me la richiedono dalla regia, mi hanno scritto subito pubblicità, noi la chiamiamo e poi parleremo ancora del Calamice, ma soprattutto sul referendum della giustizia, tra poco.